Siamo qui con il professor Ciuffoletti, qui a Montalcino, è lui quest'anno a cui andrà appunto il premio Città di Montalcino. Professore, sappiamo che lei ha anche un bel legame con la Città di Montalcino, ci racconti anche un po' come secondo lei è cambiata nel corso degli anni, si ha mantenuto le sue caratteristiche storiche o si è evoluta nel corso del tempo. Le ha mantenute, ovviamente è cambiato tutto dal punto di vista produttivo, il consorzio è nato 50 anni fa, il consorzio di Brunello di Montalcino, 50 anni fa ed erano 25 produttori, adesso sono migliaia questi produttori e se lei pensi al numero di bottiglie che si producevano 50 anni fa e si vendevano nel mondo perché si tratta di vini di alta gamma e oggi sono milioni, 9 milioni nel 2016, lei capisce che l'attività produttiva e anche il paesaggio circostante è cambiato, ma questa città ha conservato come molti altri centri storici, forse anche grazie al suo isolamento in un certo senso, è diventata una forza e quindi ha conservato molte delle sue caratteristiche, lode anche agli amministratori che nel tempo l'hanno fatto, ma molto lode ai produttori, quelli di qui e quelli che sono venuti da fuori, grandi produttori che hanno investito per valorizzare il territorio perché poi di questo si tratta, si tratta lavoro, le vigne non sono nate spontaneamente, sono frutto di investimenti e di lavoro, così le cantine. Montalcino come diceva giustamente lei è vino ma è anche paesaggio, ecco lei si è soffermato molto poi anche su questi aspetti legati a come tutelarlo il paesaggio, ecco qui siamo messi bene come realtà o? Io penso di sì, io anzi penso che la coscienza del paesaggio deve essere più spontanea che legata alle leggi, non credo molto nelle proibizioni ma credo nella cultura, nella presa di coscienza, la Toscana non è una terra di barbari, è una terra di gente, magari chi viene dall'esterno, perché ormai ci sono investimenti dall'esterno che arrivano da persone che non sanno la nostra storia, non sanno che qui c'è stato fin dal medioevo un'attenzione al sviluppo civile regolato dagli statuti, per esempio, quindi bisogna che questa coscienza che in parte, in gran parte, si è conservata in Toscana degli equilibri, delle armonie, del senso del limite, non si può andare oltre, non si può fare delle cose, delle cattedrali nel deserto come si sono fatte nell'industria, il paesaggio toscano è ricamato, bene, bisogna che chi viene da fuori sappia che queste sono le caratteristiche con le quali si può lavorare qui. Poi dopo, se gli organismi regionali o nazionali fanno delle leggi sul vino, sulla vitivinicultura, devono fare attenzione che non diventino impedimento allo sviluppo, perché io penso che le cose devono essere rese compatibili, cioè bisogna rendere compatibili le esigenze economiche con le esigenze della conservazione, anche perché è consustanziale, il paesaggio è parte del valore dell'insieme, sia dal punto di vista della vitivinicultura, il vino, sia dal punto di vista del turismo, sia dal punto di vista della cultura in sé. Io vengo qui e molti vengono qui perché si respira senza magari riconoscerlo, ma evidentemente molti lo riconoscono, un clima, una cultura che è diversa.